Ora avevamo una sciocola unitaria, abbiamo fatto di tutto perché ci fosse una data unica, una data in cui sciocassimo tutti insieme, manifestassimo tutti insieme. Il fattore dei bambini non fa rima con gentile, la scuola, la scuola, sia solo noi, i beni, i pregai, sia che solo noi. La scuola pubblica non si rinocca, la difenderemo con la lotta. Io sono un insegnante precario che purtroppo quest'anno ancora non lavora. Come insegnanti precari penso che ci troviamo nella condizione più dura possibile, nella privatizzazione della scuola, perché di questo si parla nel decreto Germini e che purtroppo, avanti anche da tempo, è quella cosa che ha prodotto il precariato e lo alimenta sempre di più. Per quanto riguarda gli insegnanti in ruolo, l'aumento della privatizzazione, il taglio dei posti, il peggioramento delle condizioni di lavoro, vuol dire una riduzione del salario anche per gli insegnanti di ruolo. Germini, penalti, la scuola già dei posti, Germini, penalti, la scuola già dei posti.